Se la guerra arrivasse qui da noi... Maledetti! Non gli lasceremo conquistare la nostra patria! La nostra casa! La nostra Nintendo Switch! Sparagli! Sparagli a quel bastardo! Che intanto faccio una diretta su Instagram! Voglio gelato! Ma che gelato? Il nostro frigo è stato distrutto da un colpo di mortaio! Chi è? Vado a vedere! Buongiorno signori! Che bello! Il fattorino di Amazon arriva anche durante la battaglia! Ma che fattorino è fattorino? Sono l'ufficiale giudiziario! Dalle mie carte risulta che non avete pagato le ultime rate dell'Imu! Ma ha visto com'è ridotta casa nostra? Voglio la mortadella! Hmm, è vero! La vostra casa non è agibile! È proprio così! Allora dovete pagare anche un condono edilizio! Inoltre da qui mi risulta che non avete pagato l'attari e nemmeno le utenze! Ma che utenze? Il gas qui non arriva da mesi! Non divaghiamo! Ce li avete i soldi o no? Tutto quello che abbiamo è questo fucile! Meglio di niente! Siamo disalmati! Scappiamo! Voglio vedere Puffy! Oh no! Un posto di blocco! Amici o nemici? Sembrano dei nostri! Voglio la sambuca! Favorite patente libretto! Buongiorno brigadiere! Dove state andando? Stiamo seguendo il corridoio umanitario per andarcene di qui! Sì, con il nostro bambino! Eh, l'altro è rimasto a casa a coprirci le spalle! Voglio il panino con la nutella! Vi siete accorti che avete un fanalino spento? E il seggiolino del bambino non è a norma! Ma stanno piovendo sulla nostra testa i missili? E lei si preoccupa del seggiolino? La sicurezza prima di tutto! E poi... Vi è scaduta la revisione! E come la facevamo la revisione? Il nostro meccanico di fiducia è stato raso al suolo! Mi spiace signori, dovete lasciare qui l'auto! Ma abbiamo i cingolati alle calcagna! Lasciate l'auto e andatevene! E siete fortunati che non vi facciamo il palloncino! Fra poco avremo superato quella collina e saremo in Svizzera! Voglio la cioccolata! Che bello! Sembra di essere in tutti insieme appassionatamente! Fermilà voi! E voi chi siete? Guardia di finanza! Avete qualcosa da dichiarare? Sì, dei panini! Non c'è niente da ridere! Potete dimostrarne la provenienza? Dov'è la bolla di accompagnamento dei panini? Noi siamo il nemico! Arrendetevi o sarete spediti in Siberia! Oh, grazie a Dio! Siete venuti a salvarci? Andiamo dai a farci una vodka insieme! C'è da voi il bollo auto? Niet! Ma non c'è nemmeno la libertà di parola! Perlomeno nostro figlio starà un po' zitto finalmente! Voglio la libertà! E mi scappa anche un po' di cacca! E mi scappa anche un po' di cacca!